buongiorno ragazzi io sono mister hobby e benvenuti in questo mio nuovo video questo è un video della domenica perché oggi è domenica quindi lo pubblicherò subito per salutarvi e per fare quattro chiacchiere con voi questa è la radio traxxas per automodellismo auto rc rc auto guardate ho messo anche l'estensione per pilotare con una sola mano e poter riuscire a fare i video che mi piacciono tanto guardate ragazzi sono verde ci sentono anche le cicale 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 ora sono in un momento di pausa prima mi sono mangiato una bella brioche al cioccolato non dico la marca se no dicono che faccio pubblicità non si può dire la marca guardate ragazzi mi trovo qui presso l'agriturismo posta del principe in località santa giusta sansevero foggia comune di sansevero e sto giocando con la mia auto rc guardate presso l'agriturismo posta del principio voi state sgommando ragazzi oggi tira un po di vendo però è un voletto me lo voglio anche fare con l'aereo rc perché qui si può anche volare con gli aerei rc però se avete una macchinina rc perché non mi venite a trovare ci prendiamo un caffè insieme e guardate che giù c'è anche il ristorante da poco ma c'è anche un ottimo ristorante anzi vi dico molto probabilmente questa sera ci facciamo una bella pizza a margherita direttamente presso il campo volo quindi la compriamo giù e ce la mangiamo su vediamo se viene il presidente me la mangio col presidente bello due margherite a piatto macchinina macchinina rc se non siete andate al mare venite qua ragazzi che si sta freschi sotto agli alberi della posta e principe comune di sansevero ragazzi si sta freschi speriamo che il comune di sansevero faccia qualche cosa ho visto che è stato messo un recinto più in là ancora non chiuso totalmente speriamo che faccia qualcosa per per i cittadini sansevero anzi cittadini d'italia tipo un'area picclic per incentivare questo luogo alla visita dei cittadini speriamo però faccio pubblicità io potete venire qua trovate me siete i benvenuti facciamo un giretto con l'auto rc ragazzi qua ci sono vari sport presso l'agriturismo ma il più bello di tutti è l'aereo modellismo secondo me non me ne vogliano i miei amici però siccome io sono un aereo modellista quindi amo l'aereo modellismo e per me è lo sport più bello del mondo che faccio da 30 anni per chi non lo sapesse però mi piacciono anche le auto rc le barche rc mi piacciono tutto ciò che ha un radiocomando ragazzi però non disdegno lo statico mi piace anche lo statico infatti io ho un motoscafo rc lo so però è come se fosse stati ma è bellissimo fatto tutto a mano in legno ex collezione edicola quelle che costavano un botto venti anni fa dove lo faccio vedere facciamo un video al riguardo se mai ci facciamo un giro al laghetto ammesso e concesso se non troviamo il diritto vietato giocare con le barche telecomandate ecco il mio defender ragazzi guardate ho anche il kit suono motore addirittura l'ho dotato di fpv quindi lo posso pilotare col visore e e qui in queste stradine dell'agriturismo è veramente un vero spasso guardate ragazzi stop senta signor escursionista ce l'ha l'assicurazione per la sua auto rc e il bollo l'ha pagato non caro ah ok procedete andate lo stesso andiamo all'avventura ragazzi con mister robbie sentite il rumore della natura ragazzi il mio defender sotto la palma dell'agriturismo posta del principe l'agriturismo comunale andiamo all'agriturismo 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 comunale Vediamo corre Questa è la sua massima velocità Ok Ok ragazzi Niente volevo solo augurarvi buona domenica Insieme al mio Defender Della Traxxas Questo Ho intenzione di riempirlo Pieno di accessori di modellismo Ragazzi Deve diventare proprio bello Già ho iniziato Il Pirata mi ha regalato il gancio di traino E Stig mi ha regalato il secchiello Ma l'auto l'ho acquistata io E costa In sostanza è la mia liquidazione Dell'anno scorso Guardate Costa bei soldini ragazzi Se andate a vedere su internet C'ho anche il blizzard Veramente Traxxas By Mr. Hobby Nel senso che mi piacciono le Traxxas Sono un Traxxaro Ok ragazzi Per oggi è davvero tutto Buona domenica Buon sugo Buon timballo Buon tutto E ci vediamo al mio prossimo video Ciao ragazzi Un bacino a chi mi vuole bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti